Se vi chiedete cosa c'entrino i manga giapponesi con un ragazzo nero nato a Milano, la mia risposta è niente. Via non c'entro mai niente con niente. Lo spacciatore, il Vukun Pran. Ciao. Cos'è meglio? Essere scambiato per quello che non sei? Vieni su! O non essere visto affatto? Fino a pochi giorni fa ero come l'uomo invisibile. Ecco l'infame! Nessuno si acorgeva di me. Ciao, Zero. Vi e te dobbiamo lavorare insieme, lo sai? Ma che cazzo dici? Ci cacciano dal quartiere. Non ci conosciamo nemmeno. Ti presento i tuoi nuovi amici. Lei e Sara. Inno. Lui invece è Momo. Momo è una roccia. Non ha paura di niente. Diamo una mano al quartiere, sì o no? Perché tu lo puoi rifare, giusto? Concentrati. Casa. Era una parola che non avevo mai capito. Spero la prima cosa che ho sempre fatto io, ogni mattina. Pensare che se mamma non c'è più fosse colpa mia. Gli effetti che si alzano, la gente che se ne va per i dati di vandalismo, è tutto collegato. Perché in gioco c'è qualcosa di molto più grande. Chi ha l'autotipo? Magari. Dimmi chi è la sfortunata. Comunque, tu sei speciale. Il mondo ti guarda. Se lo guarda. Se occupa di te. Se ti occupi di lui. Adesso. Tocca a me. Partito. 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 Grazie a tutti